Ben ritrovati ospite di Spazio Città, il commissario straordinario della SLABAT, il dottor Ottavio Narracci, in carica da circa un mese, ospite della nostra trasmissione per la prima volta questa chiacchierata, più che intervista. La faremo per far conoscere meglio il dottor Narracci e per cercare di far comprendere a chi ci segue anche quali sono i suoi obiettivi e la strada che intende far percorrere alla nostra ASL. Benvenuto dottor Narracci. Un mese è stato sufficiente per cominciare a farsi un'idea di dove è capitato? Beh, tecnicamente diciamo che non è ancora un mese perché ho iniziato dal 12 gennaio, quindi diciamo che sono state tre settimane piene e sicuramente sufficienti per avere una prima presa di contatto con la quasi totalità delle strutture operative dell'azienda e proprio oggi completiamo un giro che mi porterà ad essere presente a Canosa, a Spinazzola e così potremmo dire di aver un attimo completato la visita, il giro e il saluto. Canosa dove peraltro c'è stato quell'episodio di violenza nei confronti del sindaco mentre svolgeva il suo lavoro al pronto soccorso. Sì, il dottor Lasalvia che ho sentito qualche ora fa, al quale ho espresso tutta la mia solidarietà e la mia vicinanza, la vicinanza dell'azienda, tra l'altro questo accaduto è stato oggetto di valutazione in seno al Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico che si è tenuto presso la Prefettura Barletta lo scorso venerdì e quindi sta generando adesso tutta una serie di valutazioni e di operatività per migliorare i livelli di sicurezza del personale sanitario. Certamente io vengo dalla Regione Puglia quindi non è che questa ASL mi è sconosciuta per cui adesso abbiamo un'idea ancora più precisa delle peculiarità, delle difficoltà ma anche delle potenzialità che non sono poche che ha questa azienda, alcune sue strutture ospedaliere, quelle di punta soprattutto, un po' tutti gli ospedali sono interessati da varie attività cantieristiche e poi c'è tutta la rete dei servizi territoriali che presto in una prossima regolamentazione che la Regione Puglia sta predisponendo dovrebbe trovare un assetto definitivo e quindi traghettare un po' questa azienda ma direi tutto quanto il servizio sanitario, il sistema sanitario della Regione Puglia in una fase che dovrebbe essere la fase di uscita definitiva da quello che abbiamo vissuto come piano di rientro e qua andiamo verso la fase di riqualificazione del servizio sanitario. Innanzitutto diciamo proprio due parole sulle polemiche che ci sono state a seguito delle nuove nomine che poi è stata una sorta di rotazione degli incarichi, molti hanno sostenuto che si poteva aspettare qualche mese ed evitare di farli in conclusione della legislatura. Non credo di essere la persona nelle condizioni più idonee a valutare questo tipo di polemica. Noi siamo a disposizione della Regione Puglia, facciamo parte di un albo di idonei a svolgere queste funzioni, io stesso ne faccio parte dal 2011 e quindi siamo a disposizione degli organi che legittimamente esprimono la volontà politico-amministrativa della Giunta regionale. Quindi siamo qui a svolgere questo lavoro nella pienezza delle nostre funzioni. Adesso toccheremo quali sono i tasti più dolenti della sanità della BAT. Ma prima voglio chiederle perché il suo predecessore ha ottenuto importanti risultati sotto l'aspetto del risanamento economico della ASL. però molti sono stati i conflitti sollevati dai sanitari di diversi settori di cui poi andremo a parlare. Lei giustamente dice che stiamo uscendo da quella pesantissima crisi della Regione Puglia che ha portato a una sorta di commissariamento quasi della sanità pugliese. E adesso possiamo cominciare a ripartire con la qualificazione. Superata l'emergenza possiamo ricominciare sostanzialmente a investire in sanità. Lei si sente di operare in continuità o in discontinuità con il suo predecessore? In quale continuità e in quale discontinuità? Beh, guardi, è chiaro che le persone che danno il loro nome, il loro volto alle cariche imprimono una particolare caratteristica anche al modo di svolgere la loro funzione. Però non dobbiamo dimenticare che le aziende sanitarie della Regione Puglia fanno parte di un sistema integrato che potremmo definire una holding di cui le varie aziende sanitarie e territoriali, le aziende ospedaliere sono delle componenti. Quindi il lavoro che viene fatto in seno alle aziende sanitarie e in particolare in questi anni è un lavoro che viene fatto in stretta e direi leale collaborazione con la holding centrale che è l'assessorato regionale alla salute. Il risanamento economico-finanziario che ha interessato l'azienda di Barletta è lo stesso che ha interessato l'azienda di Lecce, dove per esempio l'anno scorso il bilancio si è chiuso in pareggio a fronte di perdite di esercizio di oltre 60 milioni di euro degli anni scorsi. Ma tutta questa azione benefica sul bilancio che poi porta al fatto che per la prima volta la Regione Puglia ha chiuso un bilancio della sanità in equilibrio e questo è stato un fatto che è stato elogiato anche nelle sedi istituzionali anche dalla Corte dei Conti a livello nazionale è il frutto di quella azione di risanamento che costata la crime sangue è costato molto sacrificio. Quindi è evidente che la continuità di un'azione amministrativa all'interno dell'azienda sanitaria nasce dal fatto che questa azione è fatta in maniera coerente e in maniera coordinata con gli indirizzi politico-amministrativi della Giunta regionale, dell'assessorato. Non è che il direttore generale di un'azienda sanitaria può alzarsi la mattina e inventare o creare in maniera troppo libera deve ottemperare degli indirizzi che sono molto vincolanti e sono molto precisi che vengono dall'organo politico-amministrativo. Teniamo presente che ancora oggi la Regione Puglia è vero che non è più in piano di rientro ma è in piano operativo di uscita dal piano di rientro quindi è tenuta comunque a raggiungere determinati risultati che la porteranno, ci auguriamo, entro l'anno 2015 all'uscita definitiva da questa sorta di controllo che viene operato dal Ministero dell'Economia. Quindi tutte le direzioni generali delle aziende sanitarie della Puglia lavoreranno in continuità nella misura in cui questa continuità è l'espressione di un rapporto di stretta e leale integrazione e collaborazione con gli indirizzi dell'assessorato regionale che sono indirizzi che devono essere applicati in maniera omogenea in tutto il territorio perché bisogna garantire l'equità di accesso ai servizi di tutti i cittadini pugliesi dalla provincia di Foggia alla provincia di Lecce. Poi è chiaro che ogni azienda ha le sue peculiarità, le sue specificità e naturalmente ogni direttore generale in quanto persona in quanto proveniente da storie, esperienze differenti mette un quid di autonomo che può connotare in maniera specifica, in maniera differente la propria esperienza di direzione. Ma questo non significa che il direttore generale possa essere un dominus come dire sciolto da vincoli diciamo di corretta e leale collaborazione ripeto ancora, con i vertici regionali. Senta, dottore, andiamo qui alle problematiche. Certo. La prima che è oggettiva nei numeri poi diciamo attorno a questo tante discussioni ma sul fatto che la ASL-BAT sia sottodimensionata per ciò che riguarda i posti letto è un dato, diciamo, indiscutibile. Certo. Ogni qualvolta è il problema sollevato più frequentemente diciamo dai sanitari del territorio sindacati, primari, eccetera, eccetera anche da esponenti politici le risposte si cerca di rispondere ma non è il posto letto oggi la sanità va cioè si danno delle risposte abbiamo ascoltato sempre delle risposte abbastanza fumose sta rifatto che tutti chiedono un riequilibrio anche perché dicono, me lo confermi io non lo so perché non sono un tecnico dicono non sono importanti i posti letto però i trasferimenti alle ASL avvengono in funzione del numero di posti letti quindi alla fine questo non so se è una corbellia questo no però diciamo i trasferimenti avvengono in ragione della quota capitale cioè in ragione del numero di residenti io non lo dico casualmente perché questa affermazione è stata fatta da un sanitario a Michele Emiliano presente diciamo in un incontro siccome Michele Emiliano non ha replicato né nessuno quindi neanche Michele Emiliano lo sa il prossimo presidente della regione presumibilmente se vince le elezioni comunque è vero o non è vero che i trasferimenti sono in funzione dei posti letto e comunque si fa si chiede si intende chiedere un riequilibrio con il resto della regione perché sono un terzo in meno i posti letto della nostra ASL allora rispondo subito sulla questione dei trasferimenti il finanziamento delle aziende sanitarie e territoriali è fatto in virtù della quota capitaria pesata cioè tanti sono i residenti assistibili di un territorio quindi è sul numero degli abitanti è sul numero degli abitanti naturalmente questa quota che viene riversata in maniera proporzionata al numero degli abitanti deve servire per finanziare tutti i livelli essenziali di assistenza quindi sia quelli ospedalieri quelli territoriali che quelli della prevenzione per quello che riguarda la questione dei posti letto effettivamente nella provincia di Barletta Andrea Trani c'è un sottodimensionamento della rete ospedaliera rispetto allo standard di riferimento che è quello del 3x1000 di cui lo 07 è dedicato a posti di lungodegenza e di riabilitazione per la verità questa cosa non avviene soltanto nella ASL di Barletta ma avviene anche in altre aziende della regione Puglia e la ragione è molto semplice che in particolare nel territorio barese tra Foggia e Bari insistono strutture che come dire mangiano molti posti letto pensiamo all'azienda ospedaliera Policlinico pensiamo all'azienda ospedaliera Ospedali Uniti di Foggia pensiamo a tutto l'insieme delle case di cura accreditate che storicamente soprattutto nell'Interland di Bari sono molto molto sviluppate e quelli sono posti letto che fanno parte in maniera integrante della rete ospedaliera per cui è evidente che c'è uno squilibrio c'è una concentrazione di posti letto per esempio nell'area urbana di Bari dove abbiamo i grossi ospedali della cinta urbana abbiamo l'ospedale San Paolo abbiamo l'ospedale di Venere abbiamo il Policlinico abbiamo naturalmente le strutture accreditate probabilmente se andiamo a fare una proporzione rispetto al numero di abitanti vediamo che c'è un esubero anzi sicuramente vediamo che c'è un forte esubero questo forte esubero deve trovare una compensazione in minori allocazioni di posti letto in altri territori e questa compensazione in negativo viene patita soprattutto nel territorio dell'Asdi Barletta come giustamente Barletta Andriatrani come giustamente ha ricordato lei ma ci sono anche altre aziende come per esempio l'azienda sanitaria di Brindisi che hanno un'allocazione di posti letto inferiore se dovessimo considerare il numero di posti letto per residenti ora come si può superare questa questione nella nuova regolamentazione della rete dei servizi che Regione Puglia sta predisponendo non a caso non si parla di rete ospedaliera ma si parla di rete dei servizi perché molta componente diciamo di offerta assistenziale viene come dire shiftata sui posti letto che non sono ospedalieri ma sono territoriali allora in questa nuova fase di assistenza sanitaria si prevede in particolare in questa azienda diciamo di Barletta Andriatrani un particolare incremento di posti letto che non sono posti letto ospedalieri ma sono posti letto di residenze territoriali le residenze territoriali sono dei posti nei quali vengono ricoverati i pazienti cronici che però non prevedono delle quote a carico dei cittadini come invece avviene per le residenze sanitarie assistenziali oppure parliamo di centri di sveglio parliamo di ospedali di comunità quindi ci sono nuovi setting nuove nuove forme diciamo di aggregazione dell'offerta assistenziale che non coincide necessariamente con il posto letto questo ha delle ragioni diciamo molto profonde adesso non c'entrano con la questione specifica anche un po' consolatorie diciamo guardi questo lo possiamo leggere lo possiamo leggere in tanti modi però ecco se noi andiamo a fare poi delle valutazioni a carattere generale che non riguardano l'AS di Barletta ma riguardano in generale la rete ospedaliera della regione Puglia allora vediamo per esempio che degli ospedali che stanno in regione Puglia oggi beh il 70% dei ricoveri viene prodotto nel 10% in 10 ospedali cioè c'è anche una distribuzione estremamente diseguale dei ricoveri ospedalieri per cui la regione Puglia che prima del primo riordino lasciamo stare il riordino del 2002 ma nel 2010 quando venne fatto il riordino conseguente al piano di rientro aveva circa una settantina di ospedali e beh questi ospedali una ventina ne sono stati chiusi ma degli ospedali che sono sono stati disattivati e quindi riconvertiti verso strutture territoriali di questi 50 ospedali che sono rimasti con il codice ospedaliero la maggior parte dei ricoveri viene concentrata in 10 strutture ospedaliere questo qualche significato ce l'avrà naturalmente non è un discorso riferito alla specificità dell'azienda sanitaria di Andria ma è un discorso che ha una valenza di carattere regionale in questo discorso in cui si equilibrano vari pesi e contrapesi il numero di ricoveri la proprietà dei ricoveri l'indice di occupazione dei posti letto la necessità di equilibrare l'offerta di posti letto è venuta fuori una nuova ristrutturazione della rete che però rispetto agli anni scorsi in cui si parlava soltanto di posti letto ospedalieri oggi si parla di posti letto territoriali che sono dei posti nei quali viene comunque erogata assistenza deve essere erogata assistenza a pazienti che magari prima si offriva in reparti di medicina interna dove però l'assistenza era estremamente come dire generica molto spesso inappropriata si avevano delle degenze estremamente lunghe ma dove oggi per esempio non si riesce a trovare posto perché ci sono delle situazioni drammatiche soprattutto in questo periodo in cui l'emergenza influenzale sta colpendo in maniera particolare devo dire che in questa azienda per fortuna non abbiamo di queste conseguenze anche perché abbiamo tempestivamente messo in atto una serie di soluzioni tecniche predisponendo dei posti letto in più internistici come riserva ma in altre realtà della regione Puglia penso a Bari e penso a Lecce che sono le realtà più grosse della regione ci sono veramente dei grossissimi problemi spero di aver risposto in maniera comprensibile una botta una botta una botta una a uno perché è molto tecnico direttore a proposito di edilizia qui diciamo continua la polemica sulla destinazione degli ospedali di Trani e di Canosa quindi in qualche modo lei in continuità in questo caso si troverà a dover seguire questo tipo di polemica si parla c'è anche la polemica attorno al nuovo ospedale di Andria che si fa e non si fa a giorni alterni sta di fatto che l'ospedale di Andria per strutture e professionalità è un ospedale importante per per tecnologie e professionalità non certo per struttura perché è affogata al centro del paese è difficile da raggiungere e soprattutto ad esempio un ospedale dove sono bravissimi in cardiologia i tempi diventano diventano importanti se non fondamentali si fa il nuovo ospedale o si continuano a gettare soldi sul vecchio guardi è interessante la domanda sull'ospedale di Andria perché ci permette anche di rendere più chiaro il concetto che abbiamo cercato di esplicitare fino a pochi secondi fa l'ospedale di Andria da previsione del regolamento del 2012 quindi solo due anni fa dovrebbe avere attivati 200 posti letto attualmente ce ne è attivi 160 quindi ha già 40 posti letto in meno questo non perché qualcuno glieli ha tolti a favore della cinta di Bari ma perché le condizioni interne strutturali dell'ospedale non consentono allo stato attuale di collocare questa ulteriore offerta di posti letto ospedalieri nella bozza di nuovo regolamento regionale l'ospedale di Andria passa dai 200 che dovrebbe avere e che non ha a 240 quindi voi immaginatevi la difficoltà di rendere operativa questa 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 ipotesi questa questa indicazione come stona rispetto alla polemica dei posti letto che sono meno rispetto a quelli che toccherebbero diciamo a questa a questa provincia nell'ambito dell'ospedale di Andria sono in corso delle procedure che spero molto presto daranno dei risultati operativi che tendono a rifunzionalizzare spazi e percorsi perché necessariamente l'ospedale di Andria deve perlomeno avere quei 200 posti letto che sono previsti dal regolamento regionale del 2012 e in questo senso stiamo operando e naturalmente perché finché questo non avvenga non si può pensare di chiudere un plesso ospedaliero quale quello di Canosa dove è concentrata una massa di posti letto di natura internistica che oggi nell'ospedale di Andria non possono essere ospitati lei ha giustamente ricordato la particolare identità dell'ospedale andriese che è un ospedale votato all'emergenza urgenza quindi ha una tradizione una vocazione prettamente chirurgica interventistica e tutta l'area medica dove la mettiamo quindi è necessario già in questo momento andare un po' più cauti con queste ipotesi di ristrutturazione ad esempio nel plesso di Andria e di Canosa che prevederebbero una graduale chiusura e dismissione del plesso ospedaliero di Canosa queste valutazioni le abbiamo già fatte sul tavolo regionale e proprio tra un paio di giorni io sarò proprio con i miei colleghi tecnici dell'assessorato regionale per mettere mano a questo tipo di ipotesi del resto di questa cosa parleremo anche in seno alla conferenza dei sindaci della quale aspetto la convocazione per andare appunto a confrontarmi con i signori sindaci della provincia è chiaro che a questo punto il discorso del nuovo ospedale di Andria finisce per diventare una priorità perché è chiaro che questo ospedale attuale della città non potrà mai avere così come quei 240 o 250 posti letto che la nuova programmazione regionale intende assegnargli così come è chiaro a tutti che l'ospedale di Andria un ospedale di emergenza urgenza non può stare nel pieno centro di una città dove i percorsi e quindi la tempistica ricordava lei la cardiologia quindi le patologie tempodipendenti che sono assolutamente diciamo devono essere portate a letto diciamo operativo in un breve volgere di tempo ecco questa collocazione logistica è assolutamente incompatibile con la vocazione di un ospedale moderno sicuro che possa essere dedicato alla emergenza urgenza quindi occorre aprire in maniera decisa il capitolo del nuovo ospedale di Andria e che naturalmente l'assessorato regionale è molto ben presente rispetto al quale ha già una previsione diciamo di finanziamento che è stata messa un attimo in difficoltà dal fatto che con la legge di stabilità nazionale c'è stato un taglio di 2 miliardi come le sa alle regioni per cui naturalmente il taglio che viene subito dalla regione Puglia è un taglio che interessa il bilancio della sanità perché l'80% del bilancio è sanità per cui le previsioni che erano state fatte devono essere un attimo riviste anche se l'assessore ha già dichiarato che ha accantonato dei fondi di riserva per attivare la programmazione del nuovo ospedale di Andria che dopo l'ospedale di Taranto e l'ospedale di Monopoli Fasano mi risulta essere al primo posto nella programmazione delle nuove strutture ospedalieri aggiungo anche un'altra cosa che poter concentrarsi su un nuovo ospedale ad Andria significa rendere libero un immobile nel centro della città dove finalmente tutti i servizi territoriali ambulatoriali del distretto socio-sanitario di Andria potranno trovare una degna collocazione perché oggi tutti questi servizi sono disseminati nella città in questa città in locali che non sono neanche di proprietà dell'azienda il che naturalmente espone la ASRA ad un costo per locazioni abbastanza oneroso quindi la realizzazione del nuovo ospedale di Andria ci servirebbe a raggiungere due grossi obiettivi dare finalmente ad Andria anche il direttore generale se deve restare ad Andria potrebbe trasferirsi nell'attuale struttura ospedaliera ma certamente visto che a Via delle Fornaci state piuttosto sacrificate la struttura ospedaliera del Bonomo di Andria che tra l'altro è un ospedale storico che qualunque medico che si occupa di organizzazione sanitaria in Puglia conosce è una struttura che sarebbe la sede ideale per ospitare tutti i servizi territoriali oggi dispersi nel territorio della città di Andria e naturalmente per dare una degna collocazione alla direzione generale quindi un nuovo ospedale per Andria riuscirebbe a risolvere sia il problema dell'emergenza urgenza e quindi di spazi finalmente degni di questo nome però questo non significa che noi non lavoriamo per rifunzionalizzare e migliorare l'attuale ospedale cominciando dal pronto soccorso che tra qualche settimana potremo finalmente come dire inaugurare e dare all'utilizzo della città e poi risolvere il problema dei servizi territoriali più direzione generale allora siccome ci dobbiamo fermare per un minuto di pubblicità riprenderemo proprio dal pronto soccorso dalla situazione dei pronto soccorso e ci riagganceremo anche alla questione del personale perché molti lamentano di essere sotto organico ma lo facciamo tra un minuto di pubblicità bene siamo tornati in studio per continuare la nostra intervista al dottor Ottavio Narracci che è commissario straordinario della ASL BAT direttore diciamo anticipo i tempi come nomina prego ah è vero anticipo i tempi no prima dell'interruzione pubblicitaria abbiamo fatto scena al fatto che ci sarà l'inaugurazione del nuovo pronto soccorso di Andria ma io vorrei partire dalla questione pronto soccorso perché ci consente di collegarci a diversi aspetti della della sanità del territorio spesso ci sono stati episodi di violenza nei confronti dei sanitari di diversi pronto soccorso e questo è avvenuto non soltanto perché arriva il tossico l'alcolizzato o avviene anche per la grande massa di persone che si presenta ai nostri pronto soccorso abbiamo una situazione almeno i medici i primari si lamentano di essere sotto organica quindi con personale sotto stress che deve fronteggiare questa massa di persone e hanno ragione in secondo luogo un cattivo funzionamento ad esempio della guardia medica perché in molti vanno al pronto soccorso quando dovrebbero invece andare alla guardia medica quindi anche una maggiore pubblicizzazione di questa funzione per tantissimi cittadini sconosciuti se facessimo un sondaggio la conoscenza della guardia medica di dove sta per quali malanni si deve andare alla guardia medica non lo sa nessuno uno si sente male anche per la peperonata si presenta al pronto soccorso e quindi va ancora ad aggravare ulteriormente quelle che sono già le pesanti incombenze quindi rapporto con la medicina di base mancanza di personale maggiore sicurezza delle strutture so che ci vuole ci vogliono tre trasmissioni cerchiamo di farlo sono tutti temi di assoluta importanza anzi la ringrazio per averli messi sul tavolo intanto sulla questione della sicurezza è evidente che ci sono dei settori dell'attività sanitaria che sono maggiormente esposti non rendono l'operatore maggiormente esposto al rischio di aggressione da parte di terza questo avviene tipicamente nei pronto soccorsi anche per i motivi a cui lei ha fatto riferimento ma lei pensi per esempio a quello che può avvenire in un servizio di salute mentale in un servizio per le tossicodipendenze pensiamo a quello che tragicamente è successo nel settembre del 2013 alla povera collega Labriola Bari che addirittura ha perso la vita per questo motivo ma direi che in generale una potenzialità diciamo di aggressione e quindi di sofferenza in questo senso da parte del personale è possibile in tutti i servizi laddove si riversa da un'utenza che a sua volta deve misurarsi con il disagio dello stare in un servizio sanitario in un servizio sanitario nel quale in questi anni abbiamo avuto serie difficoltà a garantire anche turni di personale per i problemi che abbiamo detto prima quindi una condizione di rischio generale che in alcuni servizi in alcune strutture si vive maggiormente come in tutte le ASA pugliesi anche l'ASA di Barletta naturalmente di Barletta Anderatrani non è stata ferma da questo da questo punto di vista e quindi ha messo in campo delle procedure per migliorare diciamo per minimizzare il rischio l'impatto del rischio di aggressione ovviamente non possiamo militarizzare tutte le strutture sanitarie non possiamo mettere guardie giurate dappertutto penseremmo che però che in alcune strutture come dire più esposte anche per numerosità di accessi pensiamo ai pronto soccorsi di Andrea di Barletta che insieme raggiungono 80-90 mila accessi all'anno e insomma probabilmente la presenza di un posto fisso di polizia sicuramente sarebbe come dire un deterrente o sarebbe un elemento molto più rasserenante però chiaramente anche le forze dell'ordine si misurano credo lo dicesse il dottor Cannito primario che a Barletta hanno rifiutato ma in questo caso i sindacati credo anche la videosorveglianza invocando privacy sul discorso della videosorveglianza ormai diciamo è una infrastruttura che si utilizza con sempre maggiore frequenza nell'ambito dei servizi sanitari e però in questo caso la rifiuta a Barletta non c'è ci sono delle norme che come dire consentono di disciplinare l'utilizzo di questi sistemi che naturalmente devono essere utilizzati nel rispetto della normativa della tutela della privacy comunque lo interrotta no no per dire che è un problema che si sta affrontando anzi proprio il prefetto ha richiesto ci ha richiesto una relazione dettagliata che stiamo predisponendo e che nelle prossime ore le invieremo nella quale daremo conto di tutte le iniziative che sono state già adottate e che riguardano come dire l'adozione di soluzioni strutturali che servono a migliorare i percorsi e quindi a ridurre l'esposizione diretta dell'operatore rispetto al al paziente rispetto alla persona che potenzialmente può essere portatore di una aggressione vanno anche formati gli operatori soprattutto quelli più che lavorano negli ambienti più esposti io stesso ricordo da direttore sanitario a Lecce ho promosso diversi corsi di formazione informazione al personale dei pronto soccorsi per gestire lo stress diciamo riveniente dal rapporto con un'utenza particolarmente come dire animata qual è quella del pronto soccorso quindi delle soluzioni per minimizzare per ridurre l'impatto di questo rischio ci sono detto questo entrando negli aspetti più organizzativi di carattere sanitario lei faceva riferimento alla guardia medica e faceva riferimento quindi comunque al fatto che si riversa sul pronto soccorso una massa indiscriminata di bisogni sanitari noi dobbiamo ricordare che rispetto alla totalità degli accessi che si verificano nei servizi di pronto soccorso ma questo non avviene solo qui ad Andria avviene in tutta Italia l'85-90% di questi accessi vengono codificati come codici bianchi e codici verdi cioè si tratta di bisogni sanitari che non hanno bisogno appunto di un pronto soccorso per essere affrontati ma che possono trovare una appropriata risposta in un setting di tipo ambulatoriale è chiaro che se il paziente siamo al 90% è chiaro che se il paziente che arriva con un codice bianco aspetta 5 ore anche se ha un problema che è una relativa sciocchezza tra virgolette comincia a perdere la pazienza e quindi diventa chiaramente una persona che al di là del problema che aveva può produrre un rischio ma comunque una persona che non riceve una risposta nei termini giusti il 10% dei fabbisogni sanitari che arrivano nel pronto soccorso è invece codificato come codice giallo e codice rosso cioè una vera emergenza da pronto soccorso allora una prima soluzione che possiamo mettere in atto e rispetto alla quale abbiamo già dato indicazioni a chi di competenza mutuando esperienze già condotte altrove è quella di dedicare all'interno dei pronto soccorsi delle aree alla gestione dei codici bianchi e dei codici verdi separando i flussi diciamo dei pazienti che naturalmente quando arrivano in pronto soccorso devono essere prevalutati ci deve essere un triagista un infermiere esperto nella funzione del triage che vuol dire appunto discernimento e vuol dire quindi separazione assegnazione di un codice bianco, verde, giallo e rosso che permette di cogliere la gravità della patologia dove c'è un codice bianco e verde questi pazienti devono essere orientati verso un'area dove esistono medici che non sono neanche medici di pronto soccorso sono medici della continuità assistenziale quella famosa guardia medica a cui lei fa riferimento è che è un livello essenziale di assistenza che oddio sono decenni che è attivo d'accordo e che dobbiamo naturalmente cercare di integrare meglio nell'ambito della emergenza urgenza ma che però risponde anche a delle norme convenzionali cioè a un come dire delle regole di ingaggio ben diverse rispetto a quelle del personale del pronto soccorso e però se la guardia medica si trasferisse presso i pronti il pronto soccorso ma questa questa è una cosa è una prassi molto virtuosa che va come dire realizzata laddove è possibile ma io non le dico soltanto del trasferimento della guardia medica perché poi gli accessi notturni o gli accessi che si verificano nelle ore coperte dalla guardia medica sono solo una minima parte rispetto agli accessi che nelle ore non coperte da guardia medica si riversano sul pronto soccorso e in quelle fasce orarie che bisogna avere medici di guardia medica all'interno delle strutture di pronto soccorso in aree separate dove il paziente con codice bianco e codice verde può essere gestito e può essere naturalmente assistito con una tempistica diciamo più adeguata su questo abbiamo dato già delle indicazioni alle aree di gestione amministrativa della direzione generale per poter come dire implementare la presenza di questo personale e nel pronto soccorso di Andria che andremo spero di inaugurare tra qualche settimana l'avere a disposizione più spazi già consente di dire che potrà esserci un'area a disposizione per i codici bianchi e i codici verdi nettamente separata da quella delle emergenze mediche e delle urgenze mediche o chirurgiche di maggiore come dire entità appunto i codici gialli e i codici i codici rossi posso dire che laddove l'esperienza è stata attuata ha dato dei buoni risultati sull'emergenza personale l'emergenza personale allora le ASRA della Puglia hanno avuto grazie no lo dico perché fa ancora freddo è finito gennaio ma una girata di testa e arriva l'estate l'estate aumenta la popolazione diminuisce il personale per la turnazione delle ferie quindi ci troviamo in un'emergenza sull'emergenza su emergenza forse diciamo parlarne qualche mese prima allora noi contiamo entro il mese di giugno di concludere le procedure che dovrebbero portare in questa ASL a vedere concretamente 88 infermieri che vengono dallo sblocco del turnover grazie alle deroghe che sono state assegnate all'ASL di Barletta Andrea Trani dalla giunta regionale nell'agosto del 2014 è un bel numero sono circa 100 infermieri abbiamo anche 18-19 medici di emergenza urgenza una decina di anestesisti sono in corso le procedure le ho trovate queste procedure ben attive ben oliate e quindi veramente noi contiamo entro diciamo 4-6 mesi da gennaio quindi entro il primo semestre contiamo di vedere come dire finalmente all'opera questo personale anche perché l'assessorato regionale ci sollecita a questo perché ha da concordare col ministero la seconda tranche delle deroghe che deve essere assegnata alla regione Puglia e che a sua volta deve girare alle aziende per il 2016 perché lo sblocco del turnover come ne sa prevedeva una certa parte nel 2014 il grosso nel 2015 e una percentuale rimanente per il 2016 che deve essere definita appunto con il ministero è evidente che più unità di personale riusciamo ad assumere oggi in maniera definitiva più potremo mettere in piedi ulteriori deroghe è per questo che le strutture dell'ASA sono veramente mobilitate devo dire vorrei dire la madre di tutti i problemi in realtà non è così ma è uno dei più sentiti dei più importanti è quello delle liste d'attesa certo oltretutto ci sono state diverse polemiche perché a un certo punto i farmacisti si rifiutavano di fare le prenotazioni c'era stata una proposta da parte del presidente dell'ordine dei medici della BAT il dottor Dino Del Vecchio diceva bene le facciamo noi perché non le facciamo noi aveva proposto noi medici di base nei nostri c'era stata un po' una levata di scudi da parte dei colleghi insomma diciamo che le proposte ci sono la discussione c'è le liste d'attesa lunghe anche è irrimediabile no assolutamente no assolutamente no non è irrimediabile la questione però presuppone un impegno e una condivisione di responsabilità da parte di tutti gli attori del sistema da parte dell'azienda da parte dei medici prescrittori sia che siano medici di famiglia sia che siano medici specialisti ospedalieri o del territorio perché anche loro inviano i pazienti a fare prestazioni specialistiche e anche loro devono correttamente compilare le ricette del servizio sanitario regionale allora oggi ma di molto ma non mi fa mal un dito ma non mi faccio una risonanza questo è un discorso che attiene all'appropriatezza della prescrizione quindi il discorso lista d'attesa è come dire il punto di confluenza di vari elementi che vanno messi sul tavolo direi intanto che cominciamo ad applicare le norme le prescrizioni devono essere differenziate in base al codice di priorità la regione Puglia ha fatto una delibera nel 2013 nel maggio giugno del 2013 tra l'altro o del 2013 o del 2014 non ricordo bene ma tra l'altro proprio partendo da un'esperienza pilota fatta a Lecce nell'azienda dove sono stato direttore sanitario fino a poco fa nella quale nella quale esperienza diciamo le varie discipline che generano delle prescrizioni specialistiche erano state un attimo analizzate per cui i bisogni sanitari e i bisogni assistenziali erano stati codificati con un codice di priorità per cui per dei problemi di salute si consentiva di mettere il codice U prestazione urgente da garantire entro tre giorni per le prestazioni diciamo ad attesa cosiddetta più breve che potevano essere erogate entro dieci giorni va bene codice B poi le prestazioni cosiddette differibili quelle che possono essere fatte o entro trenta giorni visite specialistiche o entro sessanta giorni tac ecografie risonanza magnetica e poi prestazioni col codice P cioè prestazioni programmabili nel senso che non hanno alcuna priorità allora se noi cominciamo a scrivere sull'impegnativa sulla ricetta cominciamo a scontrassegnare il codice che è ben scritto in alto a destra e cominciamo a codificare il bisogno no? e non cominciamo a spacciare ogni richiesta come urgente ma gli diamo un significato clinico se da parte nostra tutte le strutture che erogano servizi riescono come abbiamo dato indicazioni a fare a predisporre delle liste d'attesa nelle quali ci siano degli spazi per le prestazioni urgenti degli spazi per le prestazioni ad attesa breve degli spazi per le prestazioni ad attesa differibile noi non rischiamo quello che succede oggi che in assenza di queste differenziazioni tutte le richieste vanno a finire in un enorme calderone indifferenziato nel quale non si capisce quale sia diciamo più necessaria quale sia più urgente quale possa aspettare quale sia invece una prestazione relativa a uno screening quindi una prestazione che va addirittura a 365 giorni di distanza quale sia una prestazione di controllo che può andare anche a sei mesi di distanza tutte vanno a finire in un calderone indiscriminato quindi cominciando a dare ordine a questo sistema con un atteggiamento di condivisione di responsabilità ripeto da parte di tutti poi che le prescrizioni le facciano direttamente i medici di famiglia online piuttosto che le farmacie a noi va benissimo l'importante è che queste prescrizioni contengano l'indicazione di appropriatezza d'accordo siano differenziabili e tracciabili come prestazioni ad attesa breve come prestazioni ad attesa differibile perché è soltanto in questo modo che noi possiamo definire se il tempo d'attesa è coerente rispetto diciamo al bisogno sanitario della persona è successo che quando in Puglia si è svolto il piano straordinario per le liste d'attesa per cui dopo l'accordo che l'assessore l'allora assessore Gentile aveva sottoscritto con i sindacati medici e diciamo del comparto sanitario e sono state immesse delle risorse economiche aggiuntive per consentire delle agende diciamo aggiuntive è successo che le persone chiamate per telefono invitate ad anticipare l'esame nel 40% dei casi hanno detto no non mi interessa perché io la devo fare comunque tra tre mesi tra quattro mesi questo le dà diciamo l'evidenza di come se non si agisce a monte cioè ospitando e sistemando le prenotazioni in un sistema che sia orientato per bisogno clinico no e noi veramente rischiamo di consumare risorse in maniera assolutamente indiscriminata senza risolvere il problema in questo discorso c'entra anche una come dire un mix di committenza anche con le strutture private accreditate anche gli accreditati che fanno prestazioni di radiologia prestazioni specialistiche tipo cardiologia o quant'altro rientrano a pieno titolo nel sistema quindi anche loro devono fornire delle agende diciamo che siano differenziate per codice di priorità e questo stiamo facendo per i contratti del 2015 con le strutture accreditate stiamo operando in questo modo gli consentiremo per un 30% di gestirsi le agende perché ci sono naturalmente ogni struttura ha poi pazienti che sono magari fidelizzati e quindi preferiscono andare in quelle strutture però per il 70% queste agende devono rientrare a pieno titolo nel sistema aziendale che quindi è fatto dal CUP che contiene sia agende pubbliche che agende private accreditate che poi tutte quante fanno parte del sistema unico pubblico di prestazione direttore siamo arrivati in conclusione spero di non essere stato troppo tecnico però insomma se ho capito io hanno capito anche quelli che ci stanno a guardare siamo in conclusione ci sarebbero ancora tanti argomenti da toccare ma credo che sono quelli più importanti posso tornare se le fa piacere certamente avremo avremo piacere anzi ci organizziamo a breve e niente come ultima domanda le chiedo qual è la priorità che intravede lei sulla quale intervenire la priorità è quella di mettere le strutture soprattutto le strutture ospedaliere quelle di maggiore diciamo a maggiore impatto e penso per esempio all'ospedale di Andria nella condizione di poter avere le risorse adeguate per affrontare i problemi che devono affrontare si tratta quindi di rifunzionalizzare spazi e percorsi e quindi avere disponibilità di spazi fisici dove allocare appunto le degenze dove poter ricoverare le persone poter avere a disposizione un adeguato numero di personale che non sia gravato da prescrizioni da limitazioni funzionali e quindi possa operare su una turnistica diciamo 24 ore su 24 senza problemi ecco dare alle strutture ospedaliere che in questo momento sono le più esposte sono state le più penalizzate da questi anni diciamo di blocco del turnover ridare il più presto possibile rimetterle nelle condizioni di rispondere al meglio al bisogno diciamo sanitario della popolazione ma nello stesso tempo dando anche a chi opera la possibilità di farlo nelle migliori condizioni condizioni di qualità e condizioni di sicurezza questa ritengo sia la prima priorità in questo momento è consolidare ancora meglio l'offerta di prestazioni sul territorio che in questi anni comunque è cresciuto molto è ben curato e naturalmente va consolidato il reso ancora più capace di rispondere a quel salto di qualità che con i posti letto territoriale di cui parlavamo all'inizio lo vedrà impegnato a svolgere delle funzioni nuove ma che sono funzioni importanti per diciamo la completezza dell'offerta di servizi sul territorio bene direttore credo che possiamo fermarci qui quindi e do appuntamento a breve con piacere e la ringrazio per la partecipazione così come ringrazio tutti i telespettatori che ci hanno seguito con la consuita cortesia attenzione a risentirci un po' di rispettatore